Dal 17 giugno 2007, Avellino Foggia ha smesso di essere una partita qualsiasi, sicuramente sentita per l'ovvia rivalità tra opposte fazioni. Ed è diventata LA partita. Perché l'Eurogoal di Rivaldo a una manciata di giri di lancetta dal termine della finale play-off è tutt'oggi un punto di non ritorno per i tifosi rossoneri, condannati ad altri dieci anni di visione di Serie C. L'Avellino nel 2009 fallì, dopo essere retrocesso dalla B e fu costretto a ripartire dalla Serie D. Da quel momento però gli Irpini hanno cominciato a cavalcare con regolarità, smettendo di essere la squadra ascensore, che faceva da spola tra cadetteria e C1 nei primi anni 2000, e diventando una compagine ormai stabilizzata da 5 stagioni in Serie B. Certo, sono ormai lontani i fasti della Serie A tra la fine degli anni 70 e larga parte degli anni 80, ma Patron Taccone è finora riuscito a garantire stagioni dignitose con tranquille permanenze in B. L'Avellino ha confermato l'esperto Walter Novellino in panchina, subentrato a Toscano nel corso della passata stagione. La squadra è stata parecchio rinnovata in difesa, dove ai confermati Laverone e Migliorini si sono aggiunti ben sette nuovi elementi. Meno ritocchi a centrocampo, dove spiccano la conferma di Capitano D'Angelo e l'arrivo dell'ex rosso-nero Molina dall'Atalanta dopo un anno di inattività, e in attacco dove è stato confermato il tandem di sicuro affidamento, composto da Ardemagni e Castaldo. Molti i colpi di mercato di prospettiva messi a segno come Radu tra i pali dall'Inter, Marchizza in difesa dalla Roma, Morosini in mediana e Asensio in attacco dal Genua. Per l'esperienza invece Swager dal Bari, rizzato dal Trapani in difesa e di tacchio a centrocampo dal Pisa. Finora altalenante, il cammino degli Irpini tra Coppa Italia e campionato. Nella Team Cup, passaggio del turno in casa contro il Matera, grazie alla rete di D'Angelo, e successiva eliminazione dalla competizione a Verona dopo aver perso per 3-1. Rete bianco-verde messa a segno da Castaldo. In campionato, vittoria all'esordio contro il Brescia, grazie alle reti di Ardemagni e Castaldo, che ribaltavano il vantaggio iniziale delle rondinelle, e pesante sconfitta per 3-1 nell'ultima trasferta a Cremona, gol di Morosini per i campani. Arbitro dell'incontro sarà Riccardo Pinzani di Empoli, calcio d'inizio alle 15 di sabato 9 settembre.